Signori, finalmente lo scopriamo di 12 Minutes Allora, speravo che il gioco sarebbe arrivato con largo anticipo In realtà, no Quindi, non so se ci staremo con i tempi per una serie Però intanto vediamo com'è Perché in giro se ne parla in maniera altalenante Chi ne parla benissimo, chi ne parla non affatto bene Quindi voglio valutare direttamente È un titolo particolare che si svolge tutto in un bilocale, praticamente E vediamo che succede Vabbè, il doppiaggio d'eccezione Ne abbiamo parlato tante volte William Defoe, appunto James McAvoy Insomma, attori stranoti Il che dovrebbe accrescere parecchio l'intensità dell'atmosfera In questa serie di loop temporali di 12 Minutes Che ne uscirà? Sta venendo l'ansia Possiamo andare al dunque Per uno, ossicciato dal tempo come sono io A questo onorogio che te scorre davanti Mi sta venendo al manicomio Comunque, l'indie più atteso dell'ultimo anno Per quanto mi riguarda Ho il terrore che mi deluda La speranza folle che sia il capolavoro dei capolavori E per scoprire che chi l'ha criticato non ci ha capito niente Spero che finisca così Spero che finisca così E che io non debba dare ragione a chi lo sta criticando Si parte 3, 2, 1 Allora Ah ma è fatto tipo Tipo ok Porta chiusa, porta chiusa, porta chiusa Sposto il pulsante sulla parete in alto Per aprire l'inventario Inoltre puoi anche usare Dipate LB La sensazione è che Funzioni meglio su PC Un gioco come questo E anche su console Io sono su Xbox La serie X In questo momento Sappiatelo Lo trovate peraltro anche su Game Pass Sia su PC che su console Cos'ha? Oh Allora Mi divano anch'io? Manca la tv Ci abbiamo in questa casa? Vediamo un po' la casa Al volo Camera da letto Salone con cucina Prendete Prendete casa mia E' casa nostra Che angoscia La faccio? Non la faccio Non mi scappa Va bene Sanifere 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 8 anni L'ha E' stata In una foto Sanifere 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 Allora Ehm Metti i dolci in tavola Mangiamo? Com'amero che hai dato questa terrata speciale E' il momento perfetto per il dolce Allora Sono pronti per essere wowato Per questo dessert Dami un secondo No radio per carità Magari scatta qualcosa Cortello Non si sa mai Per cui si Grazie per aiutare Grazie per aiutare Ci sono No No Ci sono No 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 so when is the dessert not just dessert i have something to share dessert and a present when is this my birthday just open it so baby clothes yeah i'm pregnant we're having a baby wow yeah wow so how are you feeling over there why dahlia why dahlia i wanted to name her for your mother but i never even knew her so she's still a part of you yeah what if it's a boy if it's a boy then he won't be able to read that there's someone else's name on his one it's a nice surprise don't overthink it now you want to talk about the actual pregnancy eeeeh non ho idea di come si cresca un figlio no andrà tutto bene eh it's going to be great think so ok i'll get up non apri i'm with the police turn around please what me yes you hands behind your back let's go hold still make it oh jesus christ what it's locked from the other side i'll be out in a second hey there i didn't hear you come in best night ever guess who made dessert let me know when you're in the mood didn't you already say that what um i i don't know what but no i i was just how is this possible ok la trama in france ha fatto partire un altro loop non gli si può semplicemente dire non non aprire che cosa c'è guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today ok non ci si sa mai c'è un bagno di utile le vidrio le non mi servono finestra i tuoi voglio salvare tutti come non c'è niente arriva griglia di ariazione non posso aiutare adesso solo le mie mani non ho abbastanza di spazio per lasciarlo non si può non ho abbastanza di spazio per lasciarlo solo la foto c'è niente va bene ah non posso richiudere vabbè poi telefono metto il telefono dentro alla griglia di ariazione perchè il coltello no oh ma perchè tiri fuori l'altra roba stiamo di controllo un po' vai adesso provo a non fare niente spioncino mamma mia che ansia mamma mia che ansia eeeh dire del poliziotto nel prossimo minuto il coltello va a chiamare una porta che stai parlando che stai parlando non abri la porta non abri la porta vabbè potrebbe essere qualcuno questo è... non sono serio non abri la porta è importante questo non è divertente non abri la porta solo mi ok non abri la porta ok non abri la porta ok non abri la porta ma non abri la porta 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 chi puoi adesso qui chi non abri la porta Do you know something about this? Police. Who are you? I have a warrant for your arrest. What's going on? You can't just come in like this. Don't move. Get out. No, come on. Don't. Hey, hey, hey. What are you doing? What is going on? Who are you? You can't just do this. Let's go. Hey, what the hell? Oh, 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 oh. Don't fucking move. My kick. You can't open that with just my hands. I didn't want to do that. You made me do that. You made me do that. Fuck. 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 Perchè? Ok Mamma mia che ansia Oh I'll be out in a second Allora Allora Guarda I know this sounds weird But the day is repeating itself Aha I'll prove it Yeah great let's see it wow me Let's see Technically Is this time travel? The light switch in the bedroom Something's really wrong with the wiring One of us could get really hurt Yeah no kidding you really gotta fix that thing Any other suggestions? Let's see Excited to get my mind Blown This present Look look it's clearly an open But I know there were baby clothes inside I just bought them today How could you know You're kind of freaking me out I mean I'm getting there I guess All right let me try and prove something else Let's see Eh eh Non c'ho altro Wait What is it? You know what forget it Great Ma che conversazione è In the next couple of minutes A cop is gonna knock on the door Is this with all the repeating stuff? Come on let's just leave before he shows up Come on Are you that scared of my cooking? He's gonna hurt us At least you won't be on an empty stomach I'm asking you please just Come downstairs with me Five minutes tops No I'm not going downstairs Look I can't explain right now Just trust me and don't open the door What? Just please please don't open it Okay I won't So about the day restarting Again with this? Look I haven't figured out how to work yet But for example If I get beat up I go back to the start of the evening What? What do you mean beat up? By who? The cop? I'm not trying to stress you out I'm just trying to give you an example This is you not trying to stress me out? Yeah So I'm sorry Let's talk later Lei è inutile Completamente inutile Mannaggia la miseria Appendia il telefono Penfetto Potri Adesso appena Appendia E ci mettiamo il telefono. Cosa fa? Cosa vuoi? Allora, al giorno, abbiamo iniziato. Siamo affrontati con la porta prima, ok? Cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Sono con la polizia. Ricordati la polizia. Cosa? Cosa vuoi? Sì, tu! La mano dietro la tua torta. Ehi, ascoltate. Che sta succedendo? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sono con la polizia. Ehi, ascoltate. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Hai bisogno di diciamoci cosa sta succedendo. Non puoi venire come questo. Mi sta venendo un nervoso addosso. Cioè, io penso che qualsiasi persona sana di mente, in questo caso, lo aspetterebbe dietro la porta col cortello. E invece no. E noi continuiamo a parlarne. È particolare. È molto particolare. Però intrigante, devo dire. Allora, io per adesso... Non ho sentito che tu veniva. La migliore notte mai. Hai pensato? Chi ha fatto il dessert? Sì, sì, lo so. Scusate. Scusate, grazie. Questo sembra ottimo. In un secolo. Ok. Rude. Sì, capito? Se tu sapessi... Vabbè. Allora, per il momento... Per il momento, io mi fermerei qua. Fatemi sapere cosa ne pensiate. Se lo state giocando, come lo trovate? È particolare. A tratti non proprio logicissimo. Molto legato a dei passaggi, a quanto pare, che vanno fatti per poter determinare dei cambiamenti. Speravo che fosse un pochino più dinamico e meno instradato su delle cose proprio molto schematiche. Però sembra molto intrigante. Adesso, vediamo se si riesce in qualche modo eventualmente a fare un approfondimento. I giorni non sono dei migliori, dico la verità, perché appunto c'è di tutto e sto trattando un gioco in queste ore che è un po' più impegnativo di questo, che dovrete vedere la settimana prossima. Però, insomma, vediamo. Intanto fatemi sapere, vediamo come va questo primo video, parliamone e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!